Nostradamus, svelami cos'è il risparmio. È il danaro di una vita che solo una grande banca può custodire bene. Dalle soglie del terzo millennio tutti potranno affidarlo al San Paolo. Uomini fortunati. Guarda. Riscadono dei titoli, ma rendono sempre meno. Già, i risparmi vanno conservati. Ma non possiamo farli rendere di più con prudenza però, eh? Certo. Bravo, giovane, sguardo intelligente. Probabilmente ereditarie. Chi è? Alessandro. E chi è Alessandro? Ah, questo lo ignoro. San Paolo, la banca delle soluzioni.